La pioggia dei giorni scorsi non è servita all'entroterra e ai fiumi, così come non è servita nel contrastare la crisi idrica che da ormai troppo tempo è un tema di dibattito, discussione e preoccupazione per la nostra provincia e non solo. Proprio su ciò vertono le parole della consigliera regionale in quota Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, che chiede misure urgenti, decise e importanti, accusando Acquaroli e la sua maggioranza di non aver fatto nulla per contrastare questo fenomeno durante il corso della legislatura guidata dal centrodestra. Purtroppo nonostante la pioggia che però si è battuta in maniera più consistente sulla costa e meno consistente nell'entroterra non si è risolta quella che è una crisi idrica che va di anno in anno ad aumentare ed è per questo motivo che da quando sono stata eletta ho avanzato delle proposte a livello di consiglio regionale, proposte che sono state unite anche quelle degli altri consiglieri di maggioranza e di opposizione e sono state votate all'unanimità come per esempio la richiesta della pulizia degli invasi, la richiesta di un'analisi di ciò che potrebbe essere affidarsi ad una rete di laghi. Ultimamente l'assessore Aguzzi sta parlando anche del potabilizzatore per le acque della diga di Mercatale e si parla già da tempo di questo grande invaso verso cui non siamo particolarmente favorevoli noi del Movimento 5 Stelle perché sarebbe dispendiosissimo, molto impattante dal punto di vista ambientale e soprattutto sarebbe pronto tra 10-15 anni quando noi abbiamo bisogno di soluzioni nell'immediato. Quello che posso dire è che purtroppo tutte queste proposte non sono state abbastanza sviscerate nella commissione apposita che è la terza commissione se ne è parlato fin troppo poco all'interno del consiglio regionale e soprattutto non è stato fatto niente di tangibile tant'è che la mia sensazione è che finirà questa legislatura senza che si sia messo mano a nessuna delle soluzioni per risolvere la situazione se non soluzioni tamponi come invitare i sindaci a fare ordinanza per utilizzare poca acqua sono state emesse anche nelle ultime settimane proprio qui nella nostra provincia oppure ricorre in maniera consistente al prilievo delle acque strategiche come quelle del Pozzo del Burano e di Sant'Anna che secondo noi sono soluzioni che sono state avversate dal centro-destra quando era l'opposizione ma cui ricorrono anche se dovrebbero essere solo emergenziali. Grazie